Siamo ai Primi d'Italia 2014 con Anna Maria Pellegrino, bentornata. Grazie mille. Foodblogger, ma anche quest'anno in giuria con altri foodblogger e presidente di un'anno nata associazione, parlacene. Esatto, l'associazione nazionale foodblogger è nata a novembre, in realtà ha alle spalle un po' di lavorazione, un paio d'anni, più o meno subito dal postalone di due anni fa, sono del gusto di due anni fa. L'esigenza è stata quella di riuscire a esprimere un po' quelle che potevano essere le nostre passioni di alcuni di noi e di riuscire poi a crearne uno statuto e condividere tutto questo. I nostri punti sono abbastanza semplici, riuscire a parlare del cibo in maniera etica, dare anche delle indicazioni da tutto raggio, cioè noi che siamo un po' più vecchi, riuscire a spiegare un po' come funziona questo mondo del cibo 3.0, chi si approccia al web per la prima volta e ha voglia di raccontare qualcosa. Quindi anche per fare ordine e appunto darsi delle regole in questa selva che si è creata? Sì, in Italia ce ne sono tantissimi, si dice 3.500, 5.000, non si sa, non è stato ancora appena fatto un censimento completo. Noi ci siamo dati delle regole e chi ha voglia di stare con noi semplicemente deve seguire queste regole. Il sito che è www.aifib.it, c'è lo statuto, ci sono tutte le iniziative che abbiamo fatto in questi mesi e ti vi assicuro che sono iniziative create dai soci fondatori di notte, fondamentalmente, perché tutti noi di giorno hanno altre cose da fare. Altre cose da fare, esatto. Senti, come hai visto questa evoluzione dei primi d'Italia, visto che hai già partecipato anche lo scorso anno? L'anno scorso l'idea del 3.0 del web in cucina era, per quanto riguarda questa manifestazione, obiettivamente alle prime armi, insomma erano i primi passi che si muovevano. Quest'anno è già completamente diverso e qui si rientra nell'idea di condividere il cibo, cioè di condividere l'idea che sia del cibo e anche di raccontare delle tradizioni, perché Scabin dietro di me sta raccontando delle cose su cosa si può fare con la pasta, che uno dice la mangio, non è vero. Anche. Anche. Ok, quindi anche tu adesso avrai il tuo blog Talk, che è una nuova iniziativa dei primi d'Italia, di cosa parlerai? Allora, oggi, perché in realtà sono qui da un po', oggi in realtà parlerò di come si trasforma un piatto della cucina tradizionale, quindi la pasta alla norma, viene rivisitata, rivista completamente e diventa così piccolina, starai in un cucchiaino praticamente. Una rivoluzione anche tu. Una rivoluzione, esatto. Grazie. Grazie a voi. Grazie.